ciao amici e amici della vostra gata luna eccoci qui oggi facciamo un look spero di riuscire a farlo piuttosto semplice abbiamo un po abbandonato i trucchi patacconi intanto ho preso delle cosine poi ne parleremo in speciale oggi entriamo al cinema però la caratteristica di questo video vuole essere che uso tutti i prodotti praticamente nuovi o quasi tutti insomma fondotinta a questo campioncino l'ho aperto ma è intonso diciamo c'è dentro tutto il prodotto fondotinta di perfezionante senza effetto transfer che dà cura e ha una lunga tenuta addirittura 24 ore anche un piccolo spf di 15 la scede e 20 neutro ho pensato forse dovrebbe andarmi bene ne ho due di bustine per cui nel caso mi dovesse piacere possiamo usarlo anche nei prossimi giorni allora prendiamo il nostro specchio spero non vi disturbi no non lo sto neanche inquadrando e non c'è il colore va bene poi c'è un pelino chiaro ma proprio questione di sfumatura ma meglio un po più chiaro che un po più scuro dopo con le altre creme o polveri viso lo scuriremo naturalmente c'è in modo auspicabilmente insomma naturale questo volevo dire non so se si è capito allora ti hai visto ne ho preso pochissimo poi lo stratifico leggermente solo sulle guance qui ci sono le macchie ma proprio non tanto sulla guancia destra quanto sulla sinistra abbiamo leggermente stratificato e poi cacciato bene dentro le pieghe e si fa un po rumore questo specchio purtroppo è così lo vi è il residuo che è rimasto sul dorso della zampina poi come correttore uso questo che so già che non copre niente ed è il CC Color Corrector di Max Factor che correggia anche le macchie scure e nel colore light ricordate che c'è stato quel periodo del trend dei correttori rosa ecco io l'ho comprato su Amazon costa poco questo qui in specifico non copre nulla quasi insomma ecco vedete anche molto duro quindi non è neanche tanto confortevole da usare mettiamo soprattutto qui nella parte che sopra fa un po male un po duretto diciamo ecco va bene forse sotto ci voleva no la crema l'ho messa vabbè comunque facciamo così sì c'è lo stendino eh il mio amico stendino sempre con me in realtà ne abbiamo tre in casa uno piccolo piccolo uno verticale e uno orizzontale a volte sono talmente pieni che dobbiamo usare tutti e tre ecco va bene come vedete copre poco e niente ma volevo provarlo e quindi questo è avevo letto diverse recensioni appunto che dicevano mmm mica tanto poi dunque avrei una cipria nuova ma dove l'ho messa dovrebbe essere qua dentro vediamo se siamo fortunati e a colpo tutte le notizie non la trovo no perché dovrei sollevare tutto lo scatolontolontolonda e cosa ci riusciamo qui ci sono un sacco di chicche che poi vi farò vedere peggio occhi un sacco di cose proprio veramente veramente carine ed è che la forse l'abbiamo trovato mi salissi che l'ho trovato su poggiamo per terra sì la cipria di Laura Mercier che ho preso nel colore quello che non ha colore la translucent eccola qua packaging opaco bellissimo e come si chiama è la Real Flawless Luminous è una una precede ma è perfezionatrice guardate che meraviglia non dà colore volevo provarla con voi ecco qua la metto solo sulla zona T perché è un prodotto che non conosco e quindi non vorrei che va a seccare quindi con i prodotti nuovi vado sempre bella prudente ma che bello c'è anche uno specchio così posso usare questo poi cosa facciamo poi facciamo un po' gli occhi qui e prendiamo questo primer nuovo nuovo di Luvia è un primer non uso spesso un primer occhi però ce l'abbiamo usiamolo mettiamo un po' di qui un po' di qui perché di solito metto un pizzico di correttore oppure metto un pochino di insomma un po' di cipria quello che mi capita va bene questo diciamo che idrata maggiormente essendo una formula comunque cremosa benissimo questa cipria non è male si capisce un po' mettendola poi se guarda gli occhi prodotto nuovo che non ho usato mai in video anche se ce l'ho da qualche giorno vediamo un po' devo mettere gli occhiali perché non so dove accidenti dove accidenti dove accidenti l'ho messo quella qua è questa matita occhi verde stupenda di Daniel Sandler è un eyeliner in realtà waterproof long lasting infatti si usa proprio come non tanto come matita che poi sfumate ma come eyeliner quindi noi la useremo però non tiri fuori la punta eh è un bellissimo verde smeraldino spero si veda è abbastanza scrivente che ci ho messo sotto il primer quindi grippa parecchio non scorre bene ieri che l'ho provata sul palpebra dove c'era solo un po' di crema scorreva tanto ecco adesso però sta scorrendo la funzione del primer è proprio quella di grippare quindi di fare attaccare bene il prodotto e mi sembra che svolga questo e promette abbastanza bene quindi via poi prendiamo il fermo dove sei un paio di pennelli occhi va tipo questi due qui niente di che sono ceppissimi e usiamo bighiro di tarte devo dirvi che dunque dei prodotti tarte non mi hanno mai fatto impazzire questo ha dei colori molto belli questo è indubbio allora prendiamo come prima cosa coraggius per sbiancare un po' e magari anche per rendere più sottile la matita qui all'inizio che mi viene sempre grossa con un tronco ecco fatto questo l'ho dimenticato dopo dopo settiamo lo raccontro il correttore poi non aggiungerei nulla di che se non un bel power move potere del movimento che lo voglio dire che è viola che uno dice ma come metto sulla matita e lo so ho messo la matita verde e poi sopra non sopra la matita sto andando più in alto rispetto alla matita metto un po' di questo viola che siccome è bellissimo e che si chiama appunto power move ecco qua mettiamo ancora un pochino ecco qua ecco qua una cosa leggerina leggerina poi se vogliamo bold questo però dato che è un po' glitterato su scriventi eh quello non si può dire nulla ne mettiamo un pochino qui vediamo che non sto combinando troppo pasticcetto ecco poi volevo in effetti un po' sfumare vediamo se qui abbiamo qualche sfumino tipo questo che l'ho usato solo ieri per per settare il correttore ecco qua lo sfumiamo un po' in modo che da riempire poi alla fine la palpebra più o meno ecco qua poi sempre per quanto riguarda il correttore tiriamo via un po' questo eccesso chiudiamo la palette e mettiamo un po' di però potrei usare anche questa qui perché no questa qui di Laura Mercier usiamo un po' qui per fissare il correttore why not ecco fatto poi poi prendiamo un altro prodotto che l'ho rasato forse una volta al mare questa palettina ehm che si chiama ma fashion è di revolution e contiene due packaging che non mi piace tanto perché è un po' peluchetto vabbè comunque plastichino e qui ci sono due a terre cremose vediamo cosa possiamo combinare ma diamoci piano Paola eh prendiamo quella più chiara che si chiama milk chocolate perché l'altra è chocolate sinceramente io non mi vedo tanto chocolate sì c'è un po' di di cosa ma poca roba ho un pelino di abbronzatura ma non mi sembra sia così visibile mettiamo un po' mettiamo un po' anche qui un po' qui e un cicino anche sul collo gli abbiamo dato un colpo mi sa di sì la cialda più scura gli abbiamo dato un colpo con la coda il cosiddetto colpo di coda adesso la sistemiamo tranquilla tienila un po' più distante Paola fatti il furbo ecco poi serio è venuto io è venuto io un po' ma adesso noi con la con il dito ecco come vedete questa è scriventissima ma è ma a me sembra tanto scura tiriamo via la crema che ha un po' sbavato si si è fatto un piccolo segno ma non è niente di che tanto questa ora che la finisco passeranno vent'anni poi volendo ma no non c'è mi sembrava ci fosse un elasticchino per chiudere non c'è dopo di che altro prodotto nuovo 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 è questo qua consigliato da giulia cova che blush e highlight di revolution eccolo qua costa una sciocchezza è un blush è una highlight glow e ho scelto il colore champagne shine in realtà mi sembra tanto rosa vediamo apriamo qui dobbiamo rompere perché ci sono trecentocinquanta da plastichini allora ecco carta luna una di voi ecco adesso è uno stick uno stick a doppia testina qui nel disegno praticamente dice spalmane uno spalmane l'altro prum eccolo qua prodottino presumo che da una parte ci sarà il blush perché che è proprio un rosa barbie uuuuuh proviamolo un attimo sul dorso porca e l'altro è un illuminante champagne mmm proviamo con molta 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 ma molta ma molta prudezza quindi eccoci qua facciamo questo ecco là mi sembra già allora vai prima col blush vediamo vediamo Laura Mercier inorridirà ma io non faccio giù no voglio fare giù tipo così tipo così uuuuuh mamma mia mi sembra tanto rosa sì dobbiamo buong ai di ai di le capette ti fanno ciao via col fondo tinta e le mettiamo un po' così che diventi un po' più accettabile boom tutta esperienza la prossima volta agiremo molto più delicatamente e passiamo al nostro amico illuminante champagne e questo è meno sbamma decisamente si può anche far così e potremmo con questo qua un po stenderlo si brava spa anche la cipria di laura merci ecco qua ma non è male carino poi qui invece ho prodotto che già uso un primer ciglia di maybelline che si chiama tinted sempre della sua linea ciglia e sensazionali è una base ma può essere accusato da solo il tanto e scuro se amate un effetto super super naturale il mio caso non si vede nulla quindi io dopo metto un normalissimo mascara per esempio questo qui di la re e lo so ne avrete e gli altri nuovi ma solo sono questo è bello in spessente ne ha fatti diversi tipi insieme a questo questo quello con la confezione verde ma c'è in altri colori che ha altri effetti mi pare che questo è quello volumilizzante e incurvante mi pare proprio di sì ora ve lo dico perché allunga mi pare di sì infatti si chiama supra lift e curl e quindi no allora forse allungante comunque io l'ho tratto anche abbastanza in spessente poi cosa che dobbiamo fare scusate le sopracciglia non ho nessun prodotto nuovo quindi mi limito a spazzolarle e mettere un po di chimibrau grigio io sono da sistemare e li sistemeremo oggi è giovedì domani pomeriggio devo andare è per me un momento molto carino del mese per vedere anche mia figlia è abbastanza divertente devo dire ora andiamo poi prendiamo sempre da questa scatola delle magie dovrebbe esserci un rossetto nuovo speriamo ah no mi sono sbagliata forse non c'è nessun rossetto nuovo Paolo no quindi mi dicono dalla regia che non c'è nessun rossetto nuovo ma diciamo che i rossetti comunque non ci mancano e prendiamo uno a casaccio mi è venuto fuori questo che adoro che è di nars alto voltaggio bellissimo veramente stupendo è un fucsia ecco ecco qua ecco qua è un rossetto freddo come potete vedere voilà trucchettino fatto e dopo se lo volete vedere lo vedete proprio bene fatto bene in primo piano su instagram un bacione la prossima è quello che vuoi fare quello sempre 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 pa